Il 23 settembre 1934 veniva inaugurato il Palazzo del Convitto Melchiorre Delfico di Teramo. A 90 anni dalla storica giornata per la città, oggi, nello stesso palazzo, è stata organizzata una festa con un viaggio tra la memoria, le persone che hanno fatto crescere il convitto fino a portarlo a numeri importanti, momenti ricreativi e flash mob. Questi 90 anni sono nella nuova sede del convitto nazionale di Teramo. E dunque questa festa è per noi un onore. Abbiamo ricevuto le autorità civili, religiosi, tutta la nostra comunità educante, i nostri ragazzi. Siamo partiti con un flash mob sull'ingresso del palazzo, poi una coreografia delle nostre ragazze del liceo coreutico e dunque poi saluti istituzionali. C'è una rievocazione storica con il dottor Serpentini e anche con il dottor Ponziani. Lei ha snocciolato i numeri del convitto delfico che cresce costantemente? Sì, siamo in crescita. Ed è un problema perché non abbiamo spazi. Cresciamo dal punto di vista dell'accoglienza dei convittori e delle convittrici. Siamo arrivati, adesso ne accogliamo al momento più di 50, ma abbiamo circa 10-15 studenti che sono liste d'attesa. Li stiamo accogliendo per la refezione del pranzo e della cena. Lei ci ha tenuto a sottolineare il fatto che il convitto non è il liceo delfico, anche se c'è una grande collaborazione. Sì, certo. Ormai io e la dottoressa Iside Lanciaprima, la dirigente dell'Istituto Superiore Delfico Montauti, siamo abituatissime ad essere scambiate l'una per l'altra. Ormai noi abbiamo capito queste differenze. L'utenza, abbiamo tutto il tempo per spiegarlo. L'importante è che la nostra utenza continui ad avere fiducia nel lavoro che svolgiamo qui, sia al convitto e sia al liceo classico.